Manca davvero poco ai 180 minuti forse più importanti dell'ultimo decennio per l'Aquila Calcio. Ci si gioca la permanenza in Lega Pro, ottenuta a fatica un quinquennio fa con molta sofferenza. Man mano che si avvicina sabato sta salendo la tensione tra i tifosi. Si spera davvero che questa volta il pubblico aquilano risponda all'appello dei fedelissimi e della società perché c'è in ballo il futuro calcistico di un'intera città e dei colori rosso-blu. Ma come bisogna affrontare questi spareggi? Certamente l'idea del tecnico Perrone è di evitare di farsi prendere dalla frenesia di dover segnare subito, consci però che al termine delle due partite l'Aquila sarà costretta ad avere dalla sua lo score definitivo, pena la retrocessione. Serviranno, come si dice in questi casi, cuore caldo e mente fredda. Concetto ribadito pubblicamente a chiare lettere dal responsabile tecnico Carlo Susini che è intervenuto sulla stampa spiegando che l'Aquila dovrà essere equilibrata senza esporre troppo il fianco all'avversario. Per la formazione salgono le quotazioni del giovane di proprietà del Pescara Andrea Mancini, il più vivo lì davanti dove si fatica davvero troppo a segnare. È l'unico in grado di attaccare con pericolosità la profondità assieme alle mezzali e in più viene dal bel gol realizzato all'ultima di campionato contro la Lupa Roma. Servirà come il pane lì davanti, affiancato da un attaccante mobile ed esperto, magari come De Sousa. I problemi maggiori ci sono in difesa dove mancherà Emanuele Pesoli, almeno per l'andata. Intanto nella giornata di ieri è stato reso noto dalla Lega il direttore di gara di l'Aquila Rimini. Sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze.